fate attenzione vegliate perché non sapete quando è il momento parla del momento della sua venuta della sua manifestazione in cui Gesù si manifesterà quel momento che tutti noi attendiamo con impazienza ma parla anche della manifestazione della venuta del Signore nella nostra vita quotidiana Gesù è presente nella storia Gesù c'è e si manifesta e ogni tanto si fa vedere se non stai attento però non te ne accorgi e lui non ti trova pronto a fare ciò che lui ti chiede Gesù viene in ogni attimo quel sorriso da donare è Gesù che viene quel lavoro da svolgere è Gesù che viene quella macchina da guidare quel pasto da preparare è Gesù che viene quell'attività da organizzare quella lacrima da versare per il fratello che soffre è Gesù che viene quella telefonata da fare quell'avvenimento lieto da condividere è Gesù che viene quel vestito da lavare quel dolore da sopportare è Gesù che viene quella persona ad amare è Gesù che viene dobbiamo amare queste piccole cose sono occasioni per dimostrare a Dio agli altri il nostro amore dobbiamo farci trovare pronti all'arrivo di ogni piccola volontà di Dio perché è Gesù che viene la volontà di Dio farla sempre subito con gioia vigilare significa fare attenzione dobbiamo fare attenzione a queste piccole cose per scoprire il valore di un anno chiedi a uno studente che è stato bocciato all'esame finale per scoprire il valore di un mese chiedi a una madre che ha messo al mondo un bambino troppo presto per scoprire il valore di una settimana chiedi all'editore di una rivista settimanale per scoprire il valore di un'ora chiedi agli innamorati che stanno aspettando di vedersi per scoprire il valore di un minuto chiedi a qualcuno che appena ha perso il treno il bus o l'aereo per scoprire il valore di un secondo chiedi a qualcuno che è sopravvissuto a un incidente per scoprire il valore di un millesimo di secondo chiedi a un antleta alle olimpiadi che ha vinto la medaglia d'argento noi abbiamo solo il presente il passato non c'è su non c'è più il futuro non c'è ancora c'è solo il presente per amare vegliare fare attenzione significa vivere nel presente amare nell'attimo presente noi spesso viviamo il futuro che cosa farò cosa sarà chissà oppure viviamo il passato con rimorsi nostalgie ricordi delle cose fatte delle cose sbagliate così perdiamo innumerevoli occasioni siamo distratti siamo disattenti corriamo corriamo e non abbiamo pace ciò che facciamo ci sembra arido e gli incontri che facciamo idem non ci dicono niente non capiamo che sono occasioni uniche di amare dobbiamo dare un'anima di profondità alle nostre azioni e allora in questa settimana prova a solennizzare ogni tua azione come se fosse l'ultima volta che la compi come se Gesù arrivasse mentre la fai perché così e da come ti trova dipendesse tutta la tua eternità perché è così quella parola quel gesto quella preghiera quell'atteggiamento quell'incontro col fratello quel chiedere o donare perdono quel scegliere controcorrente e l'ultima occasione non sprecarla allora 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 allora